Si è spento questa mattina dopo una breve malattia il segretario generale della funzione pubblica della CGL Salerno, Angelo De Angelis. Il sindacalista, che avrebbe compiuto 60 anni a settembre, era ricoverato nella struttura oncologica La Casa di Lara. A salutare il compagno De Angelis, eletto nel 2014 dopo una lunga militanza, il segretario CGL Campania, Nicola Ricci. Il suo lungo impegno, professionale e sindacale, è stato determinante per la causa dei lavoratori del comparto servizi pubblici in provincia di Salerno. Rimarrà in noi il suo sorriso e la sua passione, testimonianza di impegno e militanza.